Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buonasera, purtroppo siamo qua a parlare episodio per l'episodio di Rings of Power, stagione 2. Il purtroppo credo sia evidente a tutti il perché del purtroppo e vi anticipo già che così come gli scorsi 5 episodi non ho fatto l'ultimo perché mi stavo veramente sentendo male girandolo dal nervoso che mi montava, lo so, sono stupido a farmi sicuramente prendere così tanto il nervoso per uno stupido prodotto di intrattenimento ma non ci posso fare niente. Così come gli scorsi 5 episodi, 6 in totale della prima stagione vergognosi, 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 ma è un discorso che abbiamo già affrontato, vorrei fare alcune specifiche che farò ad inizio ogni video. All'appunto, prima innanzitutto scusate se non guardo in cam come fanno tutti i vostri youtuber più famosi, non sono timido, non mi vergogno di voi, semplicemente sono abituato a non farlo facendo live su Twitch e guardando la chat a schermo da 5 anni a questa parte tutti i giorni ogni giorno, quindi proprio non è un'abitudine che ho, quindi scusate, mi guarderò spesso in terra o dove di qua, dove c'è l'autoschermo, dove c'è la chat. Non è una mancazza di rispetto, scusate. Punto secondo, non sono un tolkieniano, non sono un fan di Tolkien, sono un amante dei romanzi fantasy, questo sì, ma non sono un grande amante dei romanzi fantasy epici. E nonostante io riconosco ovviamente a Tolkien e a tutte le sue opere che ho provato a leggere, sì, Mariglio, Il Sognanelli, più volte, ma mi sono sempre fermato dopo poco, non riesco ad andare al di là del gigantesco discorso semplicistico, ovviamente superficiale, del bene contro il male con il bene che vince sempre, ok? A me piace qualcosa di più crudo, no? Nelle cronache del ghiaccio e del fuoco, di Martins, le... senza la S che sono giocatori dell'Inter, il mondo di Gore, di John Norman, insomma, roba di questo tipo. Però, però, chiaramente, assolutamente, abbasso la testa e mi tolgo il cappello nei confronti di Tolkien, ma non ho mai letto i libri, per intero, non sono un fan ossessionato né del genere né appunto del Signore degli Anelli, ho visto ovviamente tutti e tre la trilogia dell'anello di Peter Jackson in versione integrale, tra l'altro anche di recente me la sono rivista, ogni tanto ciclocamente me la riguardo, quella perché comunque... al di là del... del fantasy epico, è comunque un viaggio incredibile, cinematografico, bellissimo, giganteschi cult, tutti e tre. E... altra premessa, ci saranno bestemmie e fumero in questo video, quindi se non... se vi dà fastidio sappiate che probabilmente mi arrebbero molto e bestemmerò molto, quindi siete ancora in tempo per... per togliervi dalla visione. E niente, basta, queste sono le premesse. Ah, non... l'ultima, non ho punti, io, cioè non ho un copione, non ho segnato le cose, l'unica cosa che ho in questo schermo adesso qua è l'episodio di Rings of Power, stoppato ovviamente, che non vi farò vedere, non è che metto tracce audio-video, semplicemente lo userò come traccia, cioè vado avanti, faccio i schippini, quindi se ogni tanto mi vede termeggiare è perché sto schippando, e non perché... perché io l'ho visto tre giorni fa, e dopo tre giorni io mi sono già completamente dimenticato di tutto l'episodio, tutto l'episodio, non mi ricordo... cioè la cronologia degli eventi non me lo ricordo, cioè è talmente tanto un ammasso di merda e una cascata di diarrea vomitevole che il mio cervello ha automaticamente wipeato, cancellato, ha fatto blackout, tabula rasa di qualsiasi evento possa essere avvenuto in questi primi tre episodi. Visti tutti e tre, parleremo episodio per episodio, con spoiler ovviamente, e già non mi ricordo niente dopo tre giorni. Poi, vedendo i frame, no? il venom, il tumore liquido che mi è venuto a me guardando la serie, che la serie mi ha messo a schermo, allora mi ricordo, no? Della scena, e quindi lo uso come... come... come gobbo, diciamo. Ragazzi, questa serie TV è vergognosa, credo che sia indifendibile, è impensabile che al di là del puro e mero gusto personale, mi piace, non mi piace, insindacabile, considerando che nel mondo ci sono persone che si fanno cacare in bocca, addirittura pagando appunto le persone che cacheranno, quindi, cioè, beh, letteralmente mangiano la merda, quindi figuriamoci se può non piacere a gusto personale questa serie TV, e che quindi il parere di una persona dovrebbe iniziare e finire lì, e finire lì, no? Ok, è una merda ma mi piace, poi a posto non sentirò mai più quello che dici, no? Perché tanto è impossibile poi essere critici ed obiettivi. Questa TV è una vergogna, cioè, è una vergogna come lo è stato, come è stata la prima serie, anzi, in questi primi tre episodi, ancora peggio, ancora peggio, cioè, uno dice cazzo, ho trollato completamente la prima stagione, imbarazzante, posso correggere il tiro sulla seconda? No, si riesce a far peggio, ma non di poco, di molto, di molto, tutto, tutto è peggio, tutto fa schifo, però non c'è niente che funziona, niente, 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 forse l'unica cosa che può essere tirata fuori da quest'argomento è la colonna sonora, che non è un concerto dei Sigurros sotto le stelle in un campo islandese d'estate con il fresco e l'aurora boreale in cielo, con i falò accesi, sicuramente non è quello, ma non è neanche, non lo so, un concerto dei maneschi, insomma. È ok, è ok, è ok, anche peraltro sprecata poi totalmente da tutte le varie scenografia, regia, fotografia, tutto quanto, completamente sprecata, se quello era forse un minuto di buono, viene ovviamente poi bruciata completamente nel complesso di merda, che è questo palazzo, questo grattacielo, questo condominio di vomito, fondamentalmente. E... beh, insomma, stiamo comunque partendo da una prima stagione dove succedono delle cose veramente simpatiche, cioè dove una persona ha in mano un pezzo di un meccanismo che potrebbe rovinare il mondo e per difendere questo pezzo di meccanismo si mette dentro una capanna, in mezzo a una conca, sotto una diga, con tre donne e quattro bambini rifugiati, scappati, terrorizzati, per difendersi da un esercito di orchi, cioè invece di continuare a correre o per esempio semplicemente prendere quell'oggetto, no? Quel coso che infila, poi fa attivare, esplode la diga, arriva a mordo e tutto quanto simpatico, lo prendi e lo tiri in un fiume, ma non lo ritrova più nessuno, non l'ho trovato fino adesso, figuriamoci se te scavi una bua e lo sotterri quando mai lo ritrovano, mai, punto, però no, non solo l'abbiamo ma lo andiamo a difendere in una capanna in mezzo a un villaggio, ci sta, ha senso, d'altronde non hai un cavallo e puoi scappare senza che loro abbiano mai possibilità di riprenderti, in quanto sono un esercito e non andranno mai più veloci di te, e chiaramente ovviamente poi il vulcano che esplode, quella truccata, quello che c'ha il figlio nelle macerie e che sa, che non sa se è vivo o morto manco lo ritorna a cercare, ce lo dà per morto automaticamente, stiamo parlando di roba veramente folle da tutti i punti di vista, proprio la follia assoluta, quella che casca in barca, nuota e si ritrova, cioè, è proprio, è proprio, vabbè, ma ne abbiamo già parlato, ora non stiamo a ritiltare. Ah, il bastone che mette, no? Ti ricordi quando c'è il signore Sauron che mette nella foresta il bastone, appoggia il bastone come a fare uno sgambetto al cavallo che va a 120 km orari nel bosco, dove tra l'altro di quei bastoni ne avrà sicuramente già presi 800.000 in faccia, sulle gambe, dovunque, ma no, un piccolo bastone davanti al cavallo che lo fa cadere totalmente, ma, ci stiamo parlando di queste cose, ci stiamo parlando di un ammasso di merda composto da espedienti narrativi forzati dentro questo ammasso di merda perché questo ammasso di merda possa continuare a rotolare praticamente in una strana situazione dove è in cima a una montagna e per forza di gravità dovrebbe rotolare di sotto già da solo, ma no, c'è bisogno di infilarci le cose per farlo continuare perché effettivamente dopo avere a disposizione una serie di romanzi incredibili e mondialmente conosciuti e soprattutto una trilogia cinematografica, quindi già dei riferimenti visivi, no, trasportati da letteratura, cinema, da Peter Jackson che sono dei calta e hanno vinto 800 miliardi l'Oscar, l'uno era troppo difficile, c'è, veramente, era troppo difficile riuscire a fare qualcosa di recente, era un qualcosa da non poter, c'è, proprio neanche ci pensi, no? Poi, insomma, alla fine il budget episodio, bro, quando si parla di sessantino di milioni? Sessanta, settanta, ottanta? Roba di poco conto, insomma, per cinquanta minuti d'episodio che ci fai con sessanta migliori ormai, nulla, bro. Gli effetti speciali, no? Ce ne fossero, sarebbero sicuramente da lodare. Va bene, signor dell'analistazione 2, io ho coscientemente deciso di voler, credibile forza di volontà, non so come sono riuscito, di voler smettere di auto-infliggere o di punizioni assurde nella vita, e lo dimostra il fatto che io ancora non abbia visto, e non guarderò sicuramente, House of the Dragon 2. Io che sono un amante del Crocker del Giaccio del Fuoco e di Marti in generale, di lui come scrittore, Qualcars, i racconti di, insomma, di favole e tutto quanto, complessivamente quello che è il Giaccio del Fuoco, dopo avermi visto, insomma, una delle mie opere preferite, completamente sgretolarmi, sì, davanti agli occhi dalla quinta stagione di Game of Thrones in poi, e aver dato ancora una volta fiducia alla prima società di House of the Dragon, e aver visto il pattumaio di Letamezza che hanno fatto, e della telenovela che è diventata, inutile, stupida e fine a se stessa, travolgendo completamente quello che è il senso del fantasy per adulti, trasformandolo in un fantasy epico del cazzo per bambini tredicenni che neanche la serie tv di Shannara è riuscita a fare, ho deciso, beh, qua mi fermo, ho la forza, non è neanche una cosa dettata da altre esigenze della vita, che so, lavori, hai solo due ore disponibili al giorno per vedere una serie tv o un film, o giocare, e scegli di non usare quelle due ore per guardare House of the Dragon 2, perché vuoi fare altro? No, io tempo ce l'ho, ma sono riuscito a trovare la forza in realtà per non guardarlo, perché basta, 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 però Rings of Power è talmente bello, invece, contro, è talmente bello far capire quanto folli, per non dire di peggio, perché non sono nei miei ambienti, siano le persone che provano anche solo a minimamente parlare bene, che è necessario farlo, per forza, come si suol dire, comunque, stagione 2, piccolo recap di quello che è successo nella stagione 1, che la mia mente aveva cancellato è che mi è venuto tutto quanto a mente, con quel piccolo recap, e ho dovuto guardarlo, perché veramente, cioè, non mi ricordavo niente, se non la folle scena finale, dove, vabbè, ma ne parliamo, perché poi si riparte da lì, e... stagione 2, episodio 1, recensione ovviamente, spoiler, recensione, insomma, invettiva, più che recensione, c'è Sauron con gli orchi, tanto tempo fa, prima del nostro Sauron o Albrand, chiamalo come cazzo vi pare, ah sì, non mi ricorderò i nomi dei personaggi, perché non me ne fotte un cazzo, perché tanto sono, fanno schifo alla merda, quindi non c'è, il mio cervello neanche si sforza a trovare un minimo, un minimo, una minima necessità di, 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 di provare a ricordarsi il nome di un personaggio, non me ne frega un cazzo, bro, non me ne frega un cazzo, perché sono talmente scritti tutti qua, tutti, dal primo all'ultimo, con il buco del culo, che riescono a lasciarti zero, riescono a raccontare zero, interagiscono zero con altri zero, e tutto rimane zero, compresi, ovviamente, le formazioni nella mia testa. C'è Sauron, tanto tempo fa, prima che diventasse Albrand, che sta parlando con tre orchi, è lì davanti a tre orchi, insomma, prova a convincere loro, poi insomma, vediamo poi tutti gli altri, si parte intanto da tre orchi, no, è un po' tipo, almeno facciamo paragoni politici, ma, si parte da lì, insomma, bla bla bla, io vi darò la libertà, arriva l'altro tipo, quello sfigurato nel viso, l'ammazza, ah, gli orchi, boom, esplode, tipo i film di Peter Jackson, cena trash, cringe, e Sauron diventa un tumore, diventa un tumore, cioè diventa un tumore liquido, la gente dice Venom, no, no, è un tumore liquido, cioè praticamente perde la sua forma fisica prima di Albrand, perché viene tradito da questo suo, boh, vice comandante degli orchi, e da altri tre orchi e mezzo che erano lì, sembrano le riunioni del PD ad agosto, il 20 d'agosto di pomeriggio, e si abbandona, disperde la magia, blu, tutto ghiaccio, e poi si trasforma in un, loro dicono, ah, è morto, vedi, non c'è più il cadavere, ma è morto, certo, lui si trasforma in un tumore liquido, e scivola sotto questa rocca degli orchi, nelle profondità, e finisce in una pozza, e diventa una pozza di tumore, diventa una pozza di tumore, e la regia, quello che ci fa vedere, è che gli anni passano, e questa pozza di tumore, che tra l'altro, credo che sia forse la cosa meglio caratterizzata nella serie, nel senso che a me viene un tumore a vedere la serie, vedo un tumore come inizio protagonista della serie, mi ci riconosco, cioè forse è uno degli unici personaggi, quello in versione di tumore e basta, ci mancherebbe, che mi fa connettere a lui, mi fa connettere lui, cioè mi fa provare empatia, questa pozza di tumore, mi fa provare empatia, perché è quello che poi ho anche io, e ti fa vedere, insomma, che nel corso del tempo, mangiando un topo, un millepiedi, questa forma di tumore riesce ad evolversi, riesce ad aumentare la sua massa tumorale, e piano piano a inirpicarsi in questa forma tumorale slash semi-umanoide, fuori da questa rocca, a sgusciare nella neve, e tra l'altro, veramente, cioè, la scena dove sta, dove sta scendendo dalla montagna, questa forma tumorale con ogni tanto un braccio che si allunga, mi ha fatto una pena e una tristezza, bro, cioè, è veramente, è comica, cioè, è dark comedy, non so neanche come definirla. Comunque, questa massa tumorale si accresce nel corso del tempo, esce fuori dal suo interno di questo sottoroccaforte, rotola nella neve, va un po' avanti, poi a un certo punto si butta in mezzo a una stradina sterrata, una signora che è in carrozza, che non vede assolutamente, che è completamente cieca e non vede assolutamente quello che è davanti a lei, pista questa massa tumorale abbastanza grande, comunque, la massa tumorale tramite la ruota riesce a salire sul carro, sa bene come, e mangia la donna. la donna, la signora che guidava da sola questo carro in mezzo al nulla, e diventa Albrand, esce ed è Albrand, c'è questa massa tumorale, l'ex Sauron tradito e ridotto senza povertà, senza poteri, nell'umiltà assoluta, mangiando topi e millepiedi e poi una vecchia si trasforma in Albrand e riacquisisce, sappiamo Sauron essere un mutaforma, insomma, un tumorforma, potremmo definirlo, e diventa Albrand, e da lì poi, insomma, ti fa vedere un po' tutta la storia, no, se non sbaglio, vero? Perché mi sono già dimenticato, sì, qua c'è quando diventa un tumore, ah sì, ti fa vedere che lui è a piedi, fa questo suo grandissimo viaggio a piedi, alla ricerca di non si sa cosa e chi, incontra questi scappati di casa dalle terre del sud che scappano perché, insomma, c'è un'invasione in corso e questi signori, senza ovviamente farsi minimamente domande, accolgono assolutamente uno straniero che viene dalla direzione opposta a loro, completamente da solo, in condizioni miserabili, e lo invitano nel loro gruppo, con un signore anche che si, insomma, si mette lì, insomma, l'ora serena, l'ora sicura, insomma, se vuoi venire, broschi, sei di nostro, eccetera, e Albrand quindi si unisce a questa, a questa carovana, stacco, sono sulla nave, sono sulla nave che poi ovviamente verrà affondata, il vecchio che aveva invitato, appunto, Albrand, Sauron, chiamavano il cazzo di pare, nella carovana, ha un medaglione al collo perché lui era, la sua famiglia era, erano i maggiordomi di questi re del sud e gli racconta la storia da cui Albrand, ovviamente, troverà e prenderà la sua, la sua, appunto, trasformata in un bugia, una bugia, impersonificandosi in questo re del sud che non è mai stato, sono su una barca alla notte perché questi signori provano a raggiungere non so cosa, su una barca che non so dove abbiano trovato questo gigantesco vascello, vabbè, non lo sappiamo, sono a piedi in mezzo a un campo, poi c'è una barca, sono 5-10 poveri come la merda, praticamente viaggiano vestiti di tumori merda e schifo, con tutti a piedi, tutti disperati, non si sa come riescono ad arrivare a una barca, ma comunque sono sotto la barca, non so come si chiama, la cambusa, non so come cazzo si chiama, sono sotto, dove stanno di solito i poveri marinai e questa barca ovviamente viene attaccata da una creatura marina che uccide tutti e che rifiuta di mangiare Sauron, cioè si avvicina e poi torna indietro che fa, no bro, mangio il tumore e poi il tumore viene a me giustamente, quindi prende e se ne va. E poi stacco e ecco Galadriel che monta sulla zattra e sui relitti di questa barca, quindi fondamentalmente nel complesso di no ma vedrete che poi arriverà la spiegazione del come casualmente, magicamente, questi due personaggi nella prima stagione si incontrano veramente con un allineamento di pianeti incredibili, non viene minimamente spiegata, non viene minimamente spiegata, viene, anzi peggio, peggio, perché non viene spiegata? Finita, a posto, cioè te la fanno rivedere, cioè ti raccontano questo pre-Halbrand e pre-incontro con Galadriel in mezzo all'oceano, come a volerti dire, eh bro, pensavi che non ci fosse una linea di ragionamento e logica dietro, di eventi cronologicamente sensati successi, e invece no, cioè, eccola qua, ma non... non stai spiegando niente, no, nulla, anche perché dura dieci minuti, cinque, vabbè, la tira sulla barca, Rings of Power, parababam, si parte, Galadriel rincorre l'altro ragazzo, aspetta, c'è scritto qua, guarda, Elrond, Elrond, il grandissimo Elrond, perché Elrond vuole scappare con gli anelli. Ovviamente, se vi ricordate, eravamo rimasti a Galadriel, che non diceva a nessuno che lui era Sauron, a nessuno, tant'è che addirittura sul finale della prima stagione, quando loro capiscono che quell'Halbrand non è il re del sud, c'è Elrond che gli fa, Galadriel, bro, chi è sto tipo? Oh, dimmelo, fra, e lei non glielo dice, lei sta zitta, quindi a questo povero stronzo deve fare tutte le scale e arrivare al fiumicciattolo per prendere la pergamena nel fiume, aprirla, leggere e tornare su e dirle, è Sauron, bro, ma diglielo! Beh, Elrond non vuole tenere gli anelli perché sapendo che Sauron potrebbe averli contaminati in qualche modo, non vuole ovviamente, cioè è un elfo, cioè capisce che ci potrebbe essere qualcosa che non va e non è un ritardato e quindi dice, però siamo sicuri, però Galadriel, il re, il grande Gil-galad, dicono che invece questi anelli servono, questi anelli servono e che Elrond non capisce un cazzo di niente, è proprio un imbecille, un inetto stupido imbecille, questi anelli servono perché, e qua partono i pipponi e i campi contro campi infiniti, non possiamo abbandonare questo continente all'oscurità, perché se ce l'andiamo noi e l'arbero appassisce la fine per tutti e non avranno le forze e Sauron e li lasceremo al loro destino, importante per dopo, è molto importante ricordarsi a questa cosa, è tutto un pippone gigantesco perché questi anelli servono apparentemente per, questi primi tre anelli servono per salvare questo albero, no? Il pollice verde, gli anelli per il pollice verde, comunque Elrond non ci sta e lui cosa fa? Si butta in una cascata, cioè loro sono lì dove c'è l'albero, no? Eccolo qua, dove c'è l'alberello e lui con questi tre lì in mano si prende e si butta di sotto e Galadriel e il re fanno si opera e nulla, stacco, fine della scena. C'è Albrand a Mordor, a Mordor dove incontra l'altro tipo che è Adar, giusto? Si, è Adar, se non sbaglio, è Hazeldine che lo fa, si, perché Woldreg è il coso e Grug è l'orco. Si, c'è il signor Adar che sta facendo, insomma sta trattando molto male i prigionieri delle terre del sud e Albrand però, Sauron, gli dice che lui ha delle informazioni su, sul ritorno di Sauron, bla 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 bla, non c'è, fingendosi di essere lui, e dicendo che se, se avesse liberato, se il signor Adar avesse liberato i, gli umani, incarcerati, resi schiavi, lui gli avrebbe raccontato queste informazioni. Quello invece lo fa rinchiudere e da lì parte tutta una tiritera su loro che vorrebbero torturarlo ma in realtà non lo torturano nemmeno e dopo sembra quello che sembra essere tipo un minuto poi vedremo che non lo libererà. Insomma, comunque, non viene ucciso ma viene imprigionato perché è in possesso di informazioni, è apparentemente torturato. E poi, e poi, sì, io vado cronologico, eh, come va l'episodio, non faccio le macro storie di uno e degli altri, vado come va l'episodio, così capite com'è scandito anche. E poi c'è il grandissimo, gigantesco, ritorno dei Puzzopiedi I puzzopiedi La Puzzopiede Insieme a Quello che poi capiremo, almeno apparentemente, essere Gandalf, perché poi mica è detto, eh, su ste serie tv, sai, capirai Figuriamoci se puoi star sereno su qualcosa Insieme a Nori Sono, continuano il loro viaggio, arrivano in queste terre aride e scoprono di non avere più Cibo Scoprono di non avere più cibo Mh, tra l'altro La, la signora Nori ha in testa della frutta Potrebbero mangiare quella, ad esempio, non lo so, magari hanno preso tipo le, ha preso questa corona di plastica Mh, eh, non lo so, boh, al reparto, eh, giardini o esterni dell'Ikea di, di, della terra di mezzo E quindi non è frutta vera Comunque, ehm, va bene C'è il loro viaggio, bro Cioè, cosa, cosa devi dire di questi due? Cosa devi dire? È un racconto a cui non fotte in cazzo un cazzo a nulla e nessuno È un racconto che è noiosissimo Che speri solo che arrivi un qualcuno che sgozzi Sia quel vecchio di merda Sia quella Puzzopiedi di merda Eh, che le lasci a essiccare sotto il sole del deserto O dove cazzo sono E invece puntualmente non succede mai E ti tocca tancarti questo rapporto che vuole rappresentare Eh, una sorta di relief comedy della serie Come se prima ci fosse stato tutto questo pathos e impegno e carico, no? Empatico, eh, di aver, di esserci addirittura bisogno di un momento di, ehm, di tranquillità Eh, che non succede nulla, non fanno nulla E loro vanno dritto nella strada Poi non c'è, hanno fame E poi allora c'è un albero secco Ti prego, fallo ricrescere Lui prova a usare i poteri Però i poteri non è ancora in controllo Quindi scoppia L'albero scoppia invece di fargli ricrescere le foglie E però da questo albero escono gli insetti Pog, tutti quanti felici, a casa e contenti Questo è fondamentalmente i discorsi a cui non fotte un cazzo nessuno A nessuno Loro che parlano Eh no, però ti aiuto io A trovare il destino Cioè questa è una bimbetta di due anni e mezzo Puzzopiede di merda Cresciuta in mezzo a altri puzzopiedi Amish Che non conosce un cazzo di nulla nella vita E addirittura si mette a fare la paternale E a fare da spirito guida Quello che dovrebbe o sembrerebbe essere Gandalf Comunque Cioè è un stregone che si è senza memoria Ma comunque ha iniziato a parlare e tutto Vabbè Cose fuori, fuori, fuori di cervello Completamente Ma non ce ne fotte un cazzo Perché Si ritorna al nostro Cristo di Sauron Che continua E fa amicizia con il cagnolone Feroce Incatenato accanto a lui Nella cella Dove i signori lo trattano male E gli dà un osso E capisci che gli casta un incantesimo E questo cane diventa soggiogato Quindi no Già ti fa capire che ha un po' Ha un po' queste capacità di controllo mentale E che riesce a controllare Come ho già fatto a cambiare la stagione Mentalmente qualcuno Poi è importante anche per il secondo episodio Questo è molto importante Ma ci ritorneremo Insomma Insomma Vi ricordate il signor Herron Che si era buttato Giù Giù dal Dalla cascata Ecco Gli elfi ovviamente Gilgalad e Galadriel Non l'hanno assolutamente trovato Lui però è riuscito a arrivare In tutta serenità Dal signor Cirdan Se non sbaglio Leggo qua Leggo qua perché Prime C'ha quella cosa carina Dei nomi Dal signor Cirdan Che a quanto ho capito Dovrebbe essere questo Cioè Già a primo A prima occhiata Tecnicamente Se La fotografia Ha un senso No Mi fa vedere un elfo Con una barba Quindi io non sapendo Minimamente chi è Cirdan Cioè proprio Veramente Non conoscendo Mi dà l'idea Bro Cristo Questo è un elfo Con la barba Cioè se addirittura Gli elfi Immortali hanno la barba Bianca Questo deve essere tipo Un giga chad Cioè Anzi un giga saggio Cioè deve essere Una persona Illustrissima Coltissima Potentissima E tutto quanto E E così sembra essere Cioè Heron va da lui A chiedere consiglio In questo cantiere navale Di notte Tutto nascosto Sul Sulla sua idea Del Bro Celebrimbor Lì Come cazzo Chiama Come si cazzo Si chiama Ha forgiato Questi trenelli Ma io So se sono Molto sicuro Di Di darli in mano Agli elfi Perché secondo me Sono contaminati E lui gli fa Brooski Come fai Fai bene Ma li a me li vado A buttar via io No A posto Allora poi C'è questo C'è questo scambio Di Di dialoghi Tra Come si chiama Gilgalad E Galadriel Che improvvisamente Così dal nulla Capisce Ah Ma lo so Dov'è Errond Eh È dal Bratto Brooski No È da Cirdan Così dal nulla Loro chiacchierano Vanno Gli esploratori Tornano Da Galadriel E Gilgalad Gli dicono Sì non Lo troviamo Sembra strano Che è un elfo Che si butta Da 800 km Di cascata E cade Nell'unica Pozza Possibile Dispolibile Senza Incredibilmente Morire Non si Non abbiano fatto In tempo Gli elfi A raggiungerlo A cavallo Da sopra la montagnetta Facendo il giro E a seguire le tracce Che probabilmente Si lascia dietro Ma comunque Non è che lo trovano in ritardo Non lo trovano Cioè proprio è sparito È sparito E Galadriel Così dal nulla fa Sì Ma lo so io dov'è Ma ti pare Ma è da Cirdan Dove vuoi che sia Pro Ma come Io non c'è stato Vanno da Cirdan E Herond E loro parlano Lì li fanno Fra Così È il caso Di buttare via Questi anelli Dove li buttiamo? Nel mare Perché Foto c'è una faglia Grossa Veramente grande Indicativamente Da qualche parte Ti butti nel mare Così Nel mare Li butti Va bene E li buttano nel mare Galadriel e Herond Arrivano Da Cirdan Sì scusami Galadriel e Gilgalad Scusatemi Arrivano da Herond Che sta nel chill Dentro questo cantiere Notturno Ha una cosa Che già vediamo E che sarà Molto protagonista Nel secondo episodio È l'incredibile capacità Anzi Sono due le strade O Ogni singolo personaggio Di questa serie tv Ha Il teletrasporto Oppure Questa serie tv È un po' un tumore Perché i personaggi Compiono delle distanze Che Non Io non sono Uno di quei dementi Che vi srotolerebbe La cartina di Della terra di mezzo Sto facendo Guarda Che qui Da qui Ci sono Tre centimetri Quindi vuol dire Che sono 12 chilometri Quindi sono Tre per quattro Vincola due Non sono Ammalato fino a quel punto Ma A seconda di quello Che mi fai vedere Io Da spettatore Ignaro Delle distanze Tra un posto e l'altro Ma solo così Concettualmente Da quello Dalle poche scene Della mappa Che mi fai vedere O dal Dal sud Nord Che mi descrivi No Anche magari Con conoscenza Forse La trilogia degli anelli Almeno Ma anche se non avessi visto nulla Un po' me la faccio un'idea Me la faccio un'idea Cioè Se questo Si butta Dalle cascate E È adesso Lì di notte In questo cantiere navale Insieme a Cirdan E nella scena prima Galadriel E Gilgalad Sono Accanto all'albero Da dove lui si è buttato E la scena dopo Sono davanti A casa di Cirdan In questo cantiere navale Con Herron Che è sempre lì al tavolo E con vedremo Tra pochissimo Cirdan Che ha appena preso la barca Per andare via Cioè Però Mi stai Mi stai raccontando Che praticamente Questa capanna Era Sotto la cascata Cioè Era lì Era lì Capito Non esistono le distanze Da come vengono tagliate Le scene Montate a cazzo di cane Non esistono Come ti viene fatto Minimamente vedere Anche un secondo Di percorso Tipo Non lo so Galadriel Improvvisamente capisce Che questo è da Cirdan Senza averci pensato Minimamente prima Così da nulla Senza A caso Lo tira fuori dal cappuccio La soluzione Perché Mi è venuto in mente Grandissima scrittura Mi fai vedere Che questi Questi elfi Corrono Stacco Scena Questi cavalli Con gli elfi sopra Che corrono veloci Per fare presto Per andare A intercettare Questo è Questo Questo cazzo Di Herron E poi sono lì Quindi mi fai capire Che La distanza Non è troppo E che se loro Pusciano Ci arrivano A fine Prima Prima dell'alba No niente C'è stacco Scena Stacco Scena C'è Non c'è Il teletrasporto Ok questa cosa Poi la vedremo La seconda stagione Ed è una cosa Per me Folle Ed è una cosa Per me Folle 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 Ed è Importantissima Per Ed è stata Importantissima E distrutta Nella prima stagione Ripeto Senza guardare La mappa Del cene di anelli Delle tele di mezzo Di cui non me ne frega Un cazzo E viene Deturpata Anche in questa stagione Seconda stagione Perché È molto semplice Ve lo spiego Calmi Sto sudando bro Nervo Sto sudando dal nervoso E perché sono obeso ma Credo più dal nervoso E da monster più cicchini ma Vabbè È un altro discorso Perché è importante Non Non Il Realismo Ma Il mostrare Il viaggio Il far capire Le distanze Beh Per tanti punti Innanzitutto Se Dalla prima stagione Io mi sento Elogiare È però I paesaggi Sono belli È però Le città Sono belle È però Le inquadrature Del Del posto X È bello È però Quello è molto È incredibile Le montagne E le colline E tutte le case E la città Degli uomini E le barche Il regno degli elfi E i nani Le caverne È bellissimo Come puoi dire Che è brutto Sono Sono incredibili Sì ma Cosa cazzo Me li fai vedere a fare A parte che In questi primi episodi Non ci saranno Minimamente Sono spariti pure quelli Quindi non vi preoccupate Ma cosa me li fai vedere a fare Cosa me li mostri a fare La grandezza Di questo mondo La vastità Le città gigantesche Le caverne enormi Le colline Di Giganti Se poi I personaggi Hanno il teletrasporto Ha niente Lo sapete cos'è Cos'è la trilogia Lezione degli anelli Di Peter Jackson Al di là Di un fantasy E di tutte le cose Ehm Del caso È un viaggio Allora vanno Da punto A A punto B Punto A Punto B È un viaggio Con qualche deviazione Dato tornare indietro Però è un viaggio E il bello è quello È che È il racconto Di questo viaggio E quindi Quando sono al lato Della montagna Insieme a Gandalf Tutti in fila Col trenino In mezzo alle tempeste Con il rischio di cadere Per terra Eccetera Mi fai capire Quanto è difficile Viaggiare in queste terre Mi fai capire Quanto è complicato Quanto è Medievalmente umano Il viaggio E quanto è importante Il viaggio Ma non per Fine risolutivo Di narrazione Che tornano i tempi E uno è contento No È perché Cosa succede Nel viaggio Nel viaggio I personaggi Crescono E si conoscono O decrescono E si conoscono O si rifiutano Di conoscersi O comunque Tu hai la possibilità Di farli interagire Di raccontarli Di raccontarsi A noi E agli altri personaggi Di costruirli Di evolveri Di evolverli Di decostruirli Di farli interagire Nel bene e nel male Di metterli A confronto Con problemi Con situazioni Risolvibili O meno E bla 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 E questo Cosa crea? Crea Ovviamente Empatia con I personaggi A schermo Cioè Sei Te sei Fai parte Della compagnia Dell'anello A un certo punto Te sei lì Con loro Che poi si separano Ma si riuniscono E da Sei Sei lì Con tutti Loro Perché ti hanno Dato modo Di raccontarli Di essere raccontati Di modo che tu Che a te Sembra già Di conoscerli Da una vita E sono persone A cui vuoi bene A chi più Chi meno E quindi Te sei lì Che compi Il viaggio Con loro E vivi Quello che vivono Loro E sei Coinvolto Quando gli succede Qualcosa E qua non esistono E se i dialoghi Prima sono stupidi E scritti Da bambini Di due anni E il viaggio Non esiste E le scene Di risoluzione Solo sono Espedienti Narrativi Per fare andare avanti La trama Io cosa la guardo A fare Questa serie tv Uno mi potrebbe Dì Bro De guardala Per i combattimenti Ma siamo a Io penso Die Dieci Undici ore Di episodi Avrò visto Tirar fuori Una volta Una spada Allora cosa Cosa sto guardando Io Io sto guardando Lo sapete cos'è Questo è Un riassunto Cioè è come se te vai Da un bambino Che fa l'esame Non so se ci sono ancora I miei tempi c'erano Di quinta elementare Davanti a tutte le maestre Sai che sei lì impegnato Lì che Sei con l'ansia E gli fai Bro Tieni 70 milioni Anzi Tieni il completo Tieni un miliardo Mi fai il riassunto D'edizione degli anelli Ecco cos'è questa serie tv Ecco cos'è Rings of power E bimbetto Partirà E perché c'è Galadriel Che va là Poi ritorna di là E poi aspetta Non mi ricordo Ah si boffa qualcosa E poi secondo me Fa tempo Si inventa cazzate Per ampliare L'esame orale E boh Anfine Ok Promosso Vai alle medie Questo è Rings of power Fondamentalmente Cioè non È un riassunto Fatto da un bambino Dell'elementare A cui è stato dato Un miliardo Che è incapace Di fare qualsiasi cosa Perché bro Non c'ha Il senso di guardare Questa serie tv Non esiste Non esiste Bro non esiste Non esiste Non esiste Perché non è fantasy È un riassunto In costume Non è action Perché non si prendono A botte Non è un drammatico Perché non ci sono Interazioni drammatiche Non è commedia Perché non ci sono Interazioni comiche E allora che cazzo è? Galadriel è arrivata Da Errond Di notte Dentro questa casina Errond è lì Che l'aspetta nel chill Non è che prova A nascondersi L'aspetta E Galadriel E qui avviene una cosa Molto importante Perché vi faccio capire L'innesco logico Del perché poi Non torna nulla E di come è capito Ombola E Galadriel si rivolge A Re E dice Bro Aspetta Non andare dentro Con la forza Fammi ci parlare Prima a me Io Galadriel Sono sua amica Lo convinco Alle darmi gli anelli E' a posto Ok Quindi questo cosa vuol dire? Che o Elrond Mi si convince A ritornare gli anelli E ok Lo Lo perdonano O In caso contrario Avrà una punizione No? Ok Sono cose elementari Ok Galadriel entra dentro E E Elrond gli fa Zia Non hai capito Il signor Cirdan E' già Sulla zattera Non scherzo Sulla zattera Che sta andando In mezzo all'oceano Di notte Con Incredibilmente Il vento a favore Chiaramente Per gettare gli anelli In mare E Galadriel fa Io cane Fine della scena Puzzopiedi Si ritorna in puzzopiedi Fine della scena Puzzopiedi Ritorno ai puzzopiedi Attenzione Perché i puzzopiedi Sono seguiti Nel deserto E noi vediamo anche da chi Perché c'è questa visuale Un po' tipo L'alte in di Tarkov Una visuale nascosta E' arrivato E' arrivato E' arrivato coso E' arrivato No Zac Efron Darth Vader Non so perché E' avuto Zac Efron Darth Vader Che li sta seguendo Ma lo inquadrano Darth Vader Cioè è un tipo Su un cavallo Con una maschera A forma di teschio Dorata Quindi E' un cattivaccio Che li sta seguendo Per fargli qualcosa Di malvagio E loro vengono seguiti Ma se ne accorgono Ah 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 Se ne accorgono Attenzione E quindi cosa fanno? Tendono Una trappola Per la persona Che li insegue Tendono questa trappola Nascondendoci Nascondendoci tra delle rocce Tendendo un filo Cioè veramente La trappola è La trappola è un filo Per far inciampare Il cavile Il mod Di teschio dorato Inciampa Ma Non è lui Lo sapete chi è? E' Poppy E non quella Di League of Legends Che ti prende Di cui vorresti Vedere Il personaggio a schermo Perché quella Arriva Col martello Fai Prende Ti dà una martellata E ti spara Nell'iperspazio A fare in culo Lontano da questo tumore Di serie tv No E Poppy La Puzzopiedi E' diverso E Poppy La Puzzopiedi Che Attenzione Attenzione Loro sono contenti Di rivedere Oh bella Dio bono O te Ed è Sono venuta anch'io Fine Fine Cioè Scena il focolare No ma I bimbi A casa come stanno Ma tutto bene Sì sì Sai Alla fine sono venuta anch'io Anzi guarda Ho portato anche un paio di pagine Del libro Sai quello Che ti fanno vedere Sì Soprattutto a darvi una mano Così Questo è dialogo Mi vuoi spiegare Innanzitutto Come Se loro sono partiti Come questo ha fatto A raggiungerli Da sola Senza sapere Dove andare Non è che c'è il gp Non è che gli ha mandato La posizione su telegram Cioè Questa Non solo Sapeva esattamente Per filo e per segno Dove loro Stavano andando Ma questa Puzzopiedi poppi Ricordiamo Ragazzina Cresciuta Nella comunità Amish Di 15 anni Questa ragazzina È anche Cioè Penso L'hunter più forte Che esista Nel mondo fantasy Cioè È riuscita A scovare Tracce Passaggi A seguire Il prof Puzzo Di 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 Falò Passaggio Cioè Una roba incredibile E loro Non è che gli chiedono Bro ma Cosa ci fai Come hai fatto Arriva qua Come hai fatto A trovarci Ma soprattutto Perché sei qua Oh Oh Bella Dio Bono Ma quant'è che ci si vede Vieni Vieni Dio Ma sì Vieni anche te Tutta a casa Li fai proprio A casa tutto bene Mamma e babbo Ah sì Nel cilio Sai vanno avanti Bono Si aggiunge anche poppi Al gruppo Ma io Mi impazzisco Mi impazzisco Mi impazzisco Ma Eh fu No Vanno avanti Passeggiano Vanno in giro Scusate Non mi ricordo Passeggiano E scoprono Di essere seguiti Però Stavolta Da Da De cattivoni Non si sa Però Ma immagino Da dei cattivoni Che effettivamente Sono quelli Con la maschera Col teschio Che Che li stanno seguendo Però Nonostante Averli seguiti Per tipo Oh 20 mesi Ormai Ogni sera Sono lì Che li guardano O si fanno le seghe Sul puzzopiedi Questi signori Sono dei pdf Insomma Capite un po' la parola Non sto a pronunciare Per completo Oppure Sono degli Maniaci Degli stalk Che non si capisce Cosa sono Porco dio Perché dico questo Perché Loro li guardano E poi se ne vanno Se ne vanno Se ne vanno Vanno in direzione Opposta Perché poi In futuro Andranno In un altro posto E vi racconterò Quando sarà il momento Se ne vanno Beh Una volta che Le visti Capiscono di essere Seguiti E quindi Spengono il falò E si rimettono in marcia Ma Cirdan È sulla zattera In mezzo all'oceano Anzi no Cirdan è Su una Micro Zattera Barchettina Da un monoposto Biposto Con le vele Col vento a favore Di notte Barra Non lo so Sembra notte Poi riesce a vedere Quindi Vabbè Di notte Notte quasi mattina Non lo so Notte Non c'è l'alba È notte Da solo Con questa sacca di anelli Che vuole buttare Questi anelli nell'oceano Io Quando mi ha detto Bro Nell'oceano c'è una faglia Gigantesca aperta Immagino Che Quello che mi immaginavo Sarebbe successo È che loro sarebbero andati Su una nave E avrebbero viaggiato Giorno Mattina Notte Per arrivare a questa faglia Sotto l'oceano E buttarli nel mezzo All'oceano Più un mezzo Che possa esserci Perché se questi tre anelli Sono potentissimi E sa Lui sa Tutti gli elfi sanno Ricordiamo elfi Creature Centenarie Intelligentissime Fortissimi Immortali Divini Di tutto e di più Che si comportano E sono dei palesi Ritardati Ancora più subiti Degli esseri umani C'è addirittura Questo con la barba Quindi L'elfo Più elfo Di tutti Io quello che mi aspetto È che questi cazzo di anelli Che Se gli elfi non usano Sicuramente Sauron non deve avere E loro lo sanno Perché lo dicono Perché sono troppo potenti Li butti Non in mezzo all'oceano Cioè Di più Devi fare otto mesi Di barca Prima di buttarli in mare Questi anelli No No Li butta Tipo a Un chilometro Cioè Vedi ancora Abbastanza vicine Le casette Da dove è partito E coso qua Cindar Come si chiama Cirdan Le vedi ancora Lo sta buttando praticamente lì Cioè lì davanti Quindi se tipo Per sbaglio Poi lui torna indietro E stasera c'è la marea Se li ritrovano Arriva la mattina dopo Vabbè Ci sta Alla fine che vuoi che sia E In realtà non conta Perché poi lui Sta per buttare questi anelli E fa E non li butta Non li butta Torna indietro Ah Voi vi starete chiedendo Vabbè Nanni Sono su un porto Lui è a 200 metri dalla riva Con questa barchetta 300 400 al massimo Da solo Dove tra l'altro Aspetta no Perché Secondo me è importante Anche questa cosa Scusate se mi interrompo Dove tra l'altro Non rema neanche lui Bro non rema Non c'ha i remi Lui sta così Al timone Così al timone E c'è il vento Che lo spinge Capito Easy Quindi lui non rema neanche In una barchetta Monoposto Con vento a favore E dici Galadriel E Gilgalad Sono lì per fermare Errond E poi appunto Il broschi Con gli anelli Li staranno inseguendo No No Cioè si vede la barchetta Dal mare Però non Non inseguono C'è un manipolo Di elfi Potrebbero prendere una barchetta E remare Per raggiungerlo Nella metà Della metà Della metà Del tempo Vento a favore Più remate Immagini quanto vai veloce Faresti di tutto Se sono così importanti O se Faresti di tutto Per salvarli No Cioè sono proprio letteralmente La salvizza Della terra di mezzo Che te non vuoi Abbandonare Perché non vuoi lasciare Rompi il cazzo E vuoi stare lì E quindi vuoi salvare l'albero Anche se pensi Che possono essere Corrotti da Sauron Comunque Ti accogli il rischio Perché è più importante Accollarsi il rischio Che lasciare la terra di mezzo Nelle sue mani Nelle mani di Sauron O in rovina Perché altrimenti Le persone potrebbero farcela E loro Si sentono in dovere Di proteggere questa terra Bene Perché non insegui l'anelli? Ok Non li butta comunque Questi anelli Cioè questo è un Comunque come sarebbe Dovuto andare Ovviamente Ma non li butta Gli anelli Si ritiene il broschi Vediamo poi Si ritorna su Sauron C'è Adar Che Che finalmente Gli va a parlare Dopo Tot Giori Non si sa quanti e come C'è Adar Che va a parlargli E Appunto a Sauron Che ha Al brand Come si chiama Che è sempre Che è sempre Incatenato E Il resto prigioniero Dove tra l'altro Sembra anche Che se la stia passando Nel chill Cioè Non è che tipo Gli manca un dito Cioè C'è tipo Una ferita Quassano Un po' Maccato Ma Cioè non è che lo stanno trattando Poi così male Cioè ho vissuto Situazioni peggiori Nella mia vita Sicuramente Che C'è Adar Che a un certo punto Gli fa senti dai Va bene Lascio Libero tutti I signori del sud Dimmi queste informazioni E lui fa Bro no Io posso fare di meglio Mi fingo Non dalla tua parte E vado a parlarci Con loro E così Ti faccio da spia Capito E gli fa Allora giurami E lui si butta a terra E giura Fedeltà Adar Prende un cavallo Vestito com'è Lo lascia andare Così Prende un cavallo E se ne va a cavallo Sghignazzando Perché poi in lontananza Da otto colline più in avanti Lui sente Cheggiare In questa conca Di accampamento per orchi Insieme a tutto il casino Il vecchio Maggiordomo Torturatore Che viene sbranato Da questo cane Perché lui lo aveva liberato Da questo collare Non si sa bene come E manipolandolo Ovviamente con la mente Sganciandogli il collare E che poi lo sbrana Il tipo Si sente Da centomila chilometri Va bene Praticamente un cartone animato È diventato Cioè tipo Pippo che cade E te senti Che cade Lui lo sente Da tipo Quaranta colline in avanti Ripeto Nonostante tutti i rumori Degli orchi Che fanno cose Lui sente L'urlo straziante In mezzo a tutto E quindi Albrand parte Per il Sauron Parte per il suo viaggio Personale Fingendo Fingendosi spia Con gli orchi Ovviamente Non rivenandogli Di essere Sauron Per andare Probabilmente Lo sappiamo tutti dove No ma ne parleremo Al secondo episodio Al fine di questo Manco me lo ricordo Si ritorna agli elfi Quindi Piccolo recap Galadriel e Ghil-Galad Arrivano la notte Lì dove c'era Elbrembar Con Cerenbror Con Cicirindor Come cazzo si chiama Porco Dio A cercare questi anelli Ok Per l'intuizione pazzesca Per la trovata La proprio l'intuizione pazzesca Di Galadriel E il re gli dice Bro O ci vai O me lo fai tornare Come il tuo amico Ok ti do questa possibilità Oppure ci vado io Con la forza Quindi cosa ti aspetti Innanzitutto Io Mi aspetto che Se questo non ha buttato Gli anelli Torna indietro E incontra Galadriel e il re No 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 Sono già tutti quanti Accanto all'albero Cioè Loro Cioè voi Adesso siete in questa scena Ok E c'è Galadriel Dote elfi Accanto all'albero Degli elfi Galadriel Elrond E Cirindor Come cazzo si chiama Scusate non me lo ricordo Che sono tutti e tre accanto Insieme nel chill Non è successo nulla Questo è Perché vi faccio La premessa prima Quindi uno si aspetterebbe Che questo Elrond Venga punito in qualche modo Che ci sia Uno scambio di dialoghi Quando quel signore Con gli anelli Torna indietro E dice Non li butto via Cioè Rincontra il re Galadriel Che erano sulla riva A 200 metri No Sono È alba È alba Quindi sono all'alba Sono già riarrivati di là È tutto ok Cioè È tutto ok Perché stanno Per indossare gli anelli E A Aaron Non è stato fatto niente Non è stato punito In nessun modo È lì nel chill Con loro Anzi addirittura Dice a Galadriel Dai ripensaci E le fa No broschi E ci sono tutti e tre lì Insieme Cirdan Gilgala De Galadriel Alcanto all'albero E così Senza Domandare Bro ma cosa ti ha Senza un dialogo Che dicesse Perché hai cambiato idea Cosa volevi fare Senza Conseguenze Di quello che succede Non ci sono conseguenze Non ha niente Nulla In questa In questa serie tv E ti chiedi Ma allora Quello Che ho visto A cosa è servito Un'altra volta No Perché mi fai vedere Queste cose Mi stai prendendo in giro Se poi Se poi non contano niente Non aggiungono niente Non danno niente Non caratterizzano nessuno Ma sono Sono Trovate Senza senso Alcuno Di sceneggiatura Per far andare avanti La trama Che Potrebbero essere Forzate Quanto vuoi Ma che magari Sono approfondite Che non vengono Neanche approfondite Sono proprio inutili Cioè però Non me le fai neanche vedere Fai il cazzo che ti pare Fai il cazzo che ti pare Cioè io tanto Non la guardo Mi fai vedere cose Che poi Un secondo dopo Non esistono più Quindi Che me le fai vedere a fa Fai che vuoi Boh Vabbè Indossano gli anelli Tutti e tre E l'albero diventa dorato Pieno di foglie Brillante Luminescente Brilla tutta La montagna E tutta La valle E E Erron fa Li guarda male E fa No Non avete capito un cazzo Cioè Ma loro si guardano Questi anelli Poi Sono belli E Basta Fine Della scena Non ci sono state conseguenze Non ci sono state Nulla Delle Cioè Noi abbiamo visto questo Che si tuffa Dalla cascata Che scappa Con i tre anelli Che prova Che fa Che viene Che li dà Al saggio degli elfi Con la barba bianca Che quello va in mezzo al mare Che non viene inseguito Che per poi nulla Nessuno subisce niente Non c'è nessuna conseguenza Per niente Nessuno Se non Indosso gli anelli E l'albero Riprende Vita E Siamo al finale Dell'episodio E non so se Voi fino a questo momento Quanto sono Un'ora di registrazione Vi siete domandosi Voi che state guardando Questo video Che guarderete Questo video Che avete visto La prima stagione O che avete visto Il primo episodio Fino a questo esatto momento A Un'ora e zero otto Perché è passata Un'ora e zero otto Di quelle Cioè Il mio racconto Un'ora e zero otto È un'ora e zero otto Di cose che accadono a schermo Ok Inutili ovviamente Fino a loro stesse Ma ne abbiamo già detto Porco dio Porco dio Porco dio Porco dio E porca madonna Probabilmente Starete pensando Ma Il signore Che ha creato Gli anelli Qualcuno Qua dentro Gliel'ha detto Che ha il brand Sauron Per Perché Cioè L'informazione Penso Chiave Per andare avanti Cioè Se lui sa quello Fini 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 Finito Finiti i problemi Tecnicamente No No Non gliel'hanno ancora detto Non gliel'hanno ancora detto Non esiste il telefono Ma Tra una cosa e un'altra Il re Voi Trenta Quaranta messaggeri D'ha tentato avvertire Signor Cerebrimbor Del Dei cosi Degli anelli Che magari Capace di forgiare Della roba così potente Potrebbe Farne Farsi utile Di quelle informazioni Soprattutto Dopo che Galadriel Gli aveva detto Di non fidarsi Di Albrand Se non sbaglio Sauron Insomma In versione Però Non so ancora Cioè No Non so a chi Non gli ha detto Che è sabato Vabbè Quindi cosa succede? Indonate un po' Bro Che Sauron Partendo da Mordor No è Cioè lui è entrato Di proprio spontanea volontà Mordor Si è fatto incatenare Si è autoconsegnato Per Prendersi Le grazie Di Adar Che manipola Penso Quattro stronzi Di orchi Per Farsi Torturare Per Giurargli Finta fedeltà Per Farlo cascare Nel suo piano Di fargli credere Di essere una sua spia E di ritornare Pensa un po' Indietro Dove Da Celebrimbor Celebrimbor Celeb Con la R Vabbè Celebrimbor Mi porta una sega Con la R Lo dirò Con la R Per sempre Tanto non conta nulla È una macchietta di merda Come tutti gli altri personaggi Protagonisti o meno Di questa TV Quindi non merita neanche Che si impari il nome Il nome corretto Ci ritorna Questo primo episodio Finisce con Albrand Che è Già Nella città Che Cioè nel frattempo Gli elfi Non hanno avvisato Questo signore In quello che Sembra Essere passato Da fine Della stagione Scorsa A questo Finito episodio Due notti Cioè a livello di montaggio Sono passate Sembrano due notti Perché altrimenti È un po' Inspiegabile No Che siano passati Più giorni Allora inizia con Galadriel Che rincorre Errond Che scappa Con gli anelli Che poi si rifugiano In cima all'albero E poi buttarsi Una cascata Sono passate Due notti Forse una Neanche due Una E nel frattempo Albrand è andato A Mordor È stato torturato È rimasto incatenato Per giorni Interi E Da solo Con un cavallo Con i vestiti Con il quale è entrato Tutto Ferito Cosato Sudicio Sporco È riuscito ad arrivare Nella città Degli elfi Di Cerimbrom Non so come si chiama La città Non mi ricordo neanche Però da Lord Celebrimbor Come ha fatto? Ci è passato un mese Due O Sono vicini di casa C'è un Praticamente è un condominio Cioè sono palazzi Di un compresso condominiale Dove da un palazzo Vedi Celebrimbor E dall'altro palazzo Celebrimbor Vede gli elfi Gli elfi vedono I nani A cazzo Cioè Piccolo teletrasporto Per noi E C'è Sauron Che appunto va dal Dal Broski E la sua Assistente gli dice Bro c'è il signore Che ti ha Ti vuole Stava qua fuori Venuto per te E lui gli fa No Galadriel mi ha detto Di non fidarmi E io Non lo ricevo Lascialo lì Non lo riceverai neanche Ok Fine Finito l'episodio Cioè è finito proprio qua l'episodio Con te che fai Si opera Sauron E dal Bro Che ha forgiato Gli anelli E ora Cosa succederà Aiuto Qualcuno lo avverta Si sono Credo Passati nel frattempo Due mesi di viaggio Per questo Per questo Albran Che questo Albran Arrivasse lì E gli elfi Quindi avrebbero dovuto Già avvisarlo Da Da due mesi Non lo so Dico due mesi Ma per Cioè capito Per farti capire Cioè è un a cavallo Che dovrà fa penso 15.000 chilometri Cioè 15.000 Io Se apro tipo Mappa Terra Di mezzo C'è una mappa Scusate eh Se mi prendo questo tempo Perché sono Sono curioso di scoprirlo Insieme a voi Io non so Poi non sono Non so neanche Cioè non mi ricordo Neanche il nome Della città Capito Delle città Non mi ricordo Non mi ricordo minimamente Però Qua Vedo Mordor Secondo me Cioè c'è un bel pezzo Di mappa Prima di Ora non vi sviscio Se non faccio vedere Insomma andate a cercarla Cioè c'è un Proprio un Scusate Non sta Nell'ere L'ere Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo come si chiama La città Di Celembri Ragazzi Io non me lo ricordo Sono informazioni che ti danno Ti buttano Ogni tanto Ogni tanto te lo ricordano Ma tanto non fanno vedere nulla Cioè non fanno vedere Come sono caratterizzati Come è la loro vita Degli elfi Degli orchi Degli umani Dei personaggi Dei protagonisti Di nulla e nessuno Cioè sono semplicemente Dei pupazzi Scritti Anzi Non scritti Che subiscono cose Auto Inventate Perché vengono messi Per sbaglio In primo luogo Da quelli che devono poi Inventarsi la scusa E giustificarsi Su loro stessi errori Rivolgendosi a loro stessi Cioè è proprio Un Un Non lo so È come È come essere dentro Una stanza bianca Completamente bianca Con le pareti Da qua non puoi uscire E prenderti schiaffi Schiaffi da solo E poi dopo che per un'ora Ti sei preso a schiaffi da solo Sempre da solo Parli altavoce E fai bro Scusami Non so cosa Mi è autosuccesso Perché Pensavo alla mia ex E ti riauto Risponderò solo Dicendo Ah bro Non c'è problemi E riparti con gli schiaffi E poi riparti Cioè Stanno a fare tutto loro Stanno a fare tutto loro Stanno a fare tutto loro Un po' di nino Stanno a fare tutto loro Sì Non esiste più La dimensione E poi è inutile Che mi viene a dire Però le sceneggiate Hai visto i paesaggi Hai visto i paesaggi Quando sono belli Sì ho capito Sto in Campania Mi affaccio al terrazzo Vedo anche io Un bel paesaggio Ma a parte verlo Se il bel paesaggio Mi fai vedere che è bello Ma poi È inutile Perché è inutile A cosa mi serve L'unica cosa positiva Che c'era Nella prima stagione Eh però Si vede che il budget È uno spesso Guarda qua Quanto sono belle le città Gli effetti speciali Sì ma se sono inutili Quindi un'ora Di niente Un'ora Di niente Un'ora di merda Di tumori Che cadono Dalle montagne E di tumori Che mi prendo io È veramente La La cosa peggiore La cosa peggiore È che Non va In nessuna direzione Come ho detto prima Non è che dici Provo a fare un horror Ma sbaglio a fare un horror Non fa paura Provo a fare una commedia Ma non fa ridere Te lo stai provando a fare Niente È sterile È il nulla Nulla Non ha Niente E non prova a fare Niente Non è fantasy È gente in costume Questo è il Luca Comics Anzi peggio È tipo Con tutto il rispetto Il Comics È come se Pesco Sannita Qua in Campania Facesse il Pescomix Paese di mille abitanti E sulle colline beneventane Ecco voi immaginate Le persone Al Pescomix Quella Questa e quella Cioè È nulla È follia Perché non è Cioè Qualc'è Provare a fare qualcosa E farlo male Ma poi è follia È tutto folle Non 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 c'è niente di giusto Bro Ma poi i costumi Fanno ridere La registrazione Fa ridere I personaggi sono Monoespressivi Non ci sono conseguenze Il mondo Non è spiegato Non è raccontato Non ci sono dettagli Non ci sono approfondimenti Non c'è un netto Di ingrandimento Su niente Su un'abitudine Su una cultura Su una specifica Nulla E quindi E quindi Un'ora e otto Uno di più Un'ora e otto Di episodio E quindi E quindi Ci vediamo Al secondo episodio Un'ora e otto Un'ora e otto